Nel momento in cui anche i musei riaprono, mi auguro che con le necessarie precauzioni molti giovani abbiano l'opportunità di visitare queste stanze, di conoscere le storie di tanti combattenti per la libertà che qui sono stati torturati, uccisi, di capire fino in fondo il senso del loro sacrificio e di comprendere quel che lei ha appena detto, che senza il loro coraggio oggi non avremmo le libertà e i diritti di cui godiamo. Libertà e diritti che non sono conquistati per sempre e non sono barattabili con nulla. Sono più fragili di quanto non si pensi. Non dobbiamo rivolgerci soltanto ai giovani, ma a tutti i nostri concittadini, perché il dovere della memoria riguarda tutti, nessuno escluso. Assistiamo oggi, spesso sgomenti, ai segni evidenti di una progressiva perdita della memoria collettiva dei fatti della Resistenza. Sui valori della quale si fondano la Repubblica e la nostra Costituzione e a troppi revisionismi riduttivi, fuorvianti, ecco perché questa ricorrenza non deve invecchiare, non deve subire l'usura del tempo. Nell'onorare la memoria di chi lottò per la libertà, dobbiamo anche ricordarci che non fummo tutti noi italiani brava gente. Dobbiamo ricordare che non scegliere è immorale, per usare le parole di Harton. Significa far morire un'altra volta chi mostrò coraggio davanti agli occupanti e ai loro alleati e sacrificò a se stesso per consentirci di vivere in un Paese democratico. Ma è nella ricostruzione del presente, di un presente in cui il ricordo serve a dirci quel che non vogliamo ripetere, che avviene la riconciliazione. È la ricostruzione basata sulla fratellanza, sulla solidarietà, sull'amore, sulla giustizia che porta alla riconciliazione. Queste stanze che un tempo videro orrori, da domani vedranno visitatori, anche speriamo molti giovani visitatori, che vogliono conoscere la storia d'Italia. È per questo che sono contento, molto contento, di celebrare con voi la festa della liberazione in un luogo simbolo. Sì, è un luogo simbolo del periodo più nero vissuto dalla nostra capitale. Ma è anche simbolo oggi della rinascita dell'Italia intera.